buongiorno cari sono ciak sono qui nello studio della tci oggi perché ho qualcosa di non solo importante ma importantissimo da condividere con voi nei 44 anni che esiste la tci diverse volte ho dovuto mettermi qui davanti alle telecamere per condividere con voi cose importanti cose che succedevano cose che potevano anche cambiare l'andamento di questa televisione cristiana la prima era nel 1994 quando morì mio figlio roi e ho voluto condividere con voi questa tragedia nella nostra famiglia e voi molti di voi avete pregato con noi avete chiesto al signore di darci la forza di continuare e lui l'ha fatto grazie a tutti voi che avete pregato per noi poi nel 2006 di nuovo davanti a queste telecamere per farvi sapere che è deceduta la mia prima moglie nora dopo 42 anni di matrimonio e poi era un altro momento cruciale per questa televisione se avessi potuto continuare ad andare avanti e con l'aiuto delle vostre preghiere e del signore siamo riusciti e siamo arrivati qui oggi nel 2023 e devo confessare non è una cosa di morte che devo condividere con voi almeno non morte di una persona ma potrebbe essere e non voglio esagerare ma è molto importante che capite potrebbe essere la morte della TCI la televisione cristiana in Italia non avrei mai voluto mettermi qui davanti alla telecamera per condividere questa cosa ma è necessario perché finora siamo riusciti ad andare avanti soltanto per il vostro aiuto per il vostro sostentamento e siete stati veramente fedeli e vi ringraziamo dal profondo dal nostro cuore grazie perché perché per 44 anni la televisione cristiana in Italia ha potuto mandare in onda dei programmi cristiani per portare la buona novella il Vangelo a tantissime persone ma oggi questa televisione cristiana è a rischio a rischio forse per colpa mia perché poco più di un anno e mezzo fa ho deciso di andare avanti non più con le stazioni piccole locali ma di acquistare un canale il 248 un canale nazionale perché abbiamo sempre voluto raggiungere tutti l'Italia e abbiamo visto questa opportunità e abbiamo fatto veramente un lungo passo di fede per acquistare il canale ma acquistando il canale non era l'unica cosa necessaria perché avendo il canale significava soltanto che avevamo il permesso di trasmettere il canale della TCI ma poi serviva i trasmettitori e per trasmettere in tutta l'Italia dovevamo fare un contratto per la veicolizzazione del nostro canale in modo che avrebbe potuto raggiungervi dove siete voi ma il costo era veramente tanto per noi esagerato ma come avremmo non potuto andare avanti dopo aver speso tantissimi soldi per il canale e dire no non possiamo permetterci di andare avanti allora abbiamo fatto tutto ciò che era nella nostra capacità di continuare e poi abbiamo dovuto pagare 51 mila euro al mese soltanto per la veicolizzazione del canale non per il canale ma per farla mettere in onda da chi trasmette con i loro trasmettitori che arriva poi nella vostra casa 51 mila soltanto per quello e già era difficile raggiungere quello che serviva per coprire tutte le spese di questa televisione come avremmo potuto avere altri 51 mila abbiamo pregato e abbiamo pensato ma raggiungendo sempre più persone sarà possibile perché sempre più persone avranno voglia di sostenere questa televisione sarà una benedizione per loro come è stato in questi anni per voi e abbiamo fatto è stato veramente una battaglia ogni mese potendo andare avanti ma ora siamo arrivati al punto che non arrivano i fondi sufficienti per continuare con la messa in onda del programma della TCI ci fa veramente male il nostro cuore sembra che volesse spezzarsi 44 anni di sacrificio per raggiungere tutta l'Italia e adesso sembrerebbe umanamente parlando che siamo alla fine e io sono qui oggi per questo io vi devo parlare con il mio cuore in mano abbiamo bisogno abbiamo bisogno urgentemente di pagare 100.000 euro di debito per la veicolizzazione del canale 100.000 euro urgentemente subito e se non riusciamo dobbiamo chiudere dobbiamo chiudere la possibilità di utilizzare il canale 248 per raggiungervi nelle vostre case e per questo voglio che ascoltate veramente attentamente non è un solito richiesta di aiuto finanziario questo è un messaggio urgente per la vita della TCI vi chiediamo di aiutarci dando un'offerta più grande che potete dobbiamo raggiungere 100.000 euro più tutte le spese che dobbiamo pagare per il resto del canale per quello che ogni mese dobbiamo pagare 100.000 euro vi chiediamo di aiutarci voi che potete e volete dare un'offerta sostanziosa magari ci sono le persone che possono anche aiutarci con 20.000 con 50.000 chissà qualcuno che vorrebbe dare il 100.000 per assicurare la continuazione della TCI ascoltatemi non è una cosa solita è una cosa unica perché è possibile che dopo che avete visto questo messaggio se in poco tempo noi non raggiungiamo la possibilità di pagare i nostri debiti per la veicolizzazione del canale che non ci vedrete più non è il nostro desiderio non potete immaginare quanto sento nel mio cuore l'incapacità mia di fare ciò che voglio fare per voi ho bisogno di voi grazie a tutti voi che date già voi siete importantissimi e se potete dare anche qualche cosa in più adesso vi chiediamo di farlo e voi che potete dare tanto date il modo di salvare questa televisione cristiana se è importante che arrivi nella vostra casa il segnale della televisione cristiana con la parola di Dio con i messaggi dei diversi pastori evangelisti che danno tutto il loro cuore e le loro capacità per presentarvi allora aiutateci e se proprio non sarà possibile e non ci vedete più vi salutiamo e vi ringraziamo con tutto il nostro cuore per tutto quello che avete fatto in questi anni per questa televisione cristiana vi saluto anche da parte di Pina in caso non dovessimo più avere questa possibilità grazie pregate e agite nel nome di Gesù e Dio vi benedica grandemente ciao 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 Grazie a tutti.